grazie per tutti gli amici che sono collegati collegati con Danilo Palle al saxalto Max Gallo alla chitarra Giorgio Allara al contrabbasso e Giorgio Deferi alla batteria grazie a tutti, grazie di essere qui con noi per noi è una bella faticata ma ci tenevamo perché come abbiamo scritto anche su Ecografi bisogna fermare questa pandemia ma non bisogna fermare la musica non bisogna fermare il jazz e questo è un piccolo tentativo di dare un segnale che i musicisti lavorano, hanno bisogno di lavorare quindi abbiamo anche aperto una piccola sottoscrizione per tutti quelli che vorranno darci una mano speriamo che siano tanti per le belle parole che poi in fondo sono quelle che ci legano un po' a tutti penso anche agli amici che sono a casa io penso che ci sia desiderio da parte di tutti di fare musica di suonare e di poter anche tra parentesi lavorare perché non è è un divertimento ma è un lavoro e quindi c'è un sacco di disoccupazione in questo momento vero Danilo? assolutamente sì noi siamo costretti a ripiegare facendo di tutto per cui facciamo qualsiasi cosa ma al di là di questo continuiamo comunque come diceva giustamente Giorgio ad avere questo amore incondizionato per la musica siamo speranzosi di poterla suonare dal vivo molto presto auguriamoci tutti di rincontrare tanti amici di rivederci c'è una bellissima pubblicità che dice torneremo ad abbracciarci non so se la vedete in giro è molto bella io direi pensiamo positivo pensiamo positivo grazie Danilo Pala Danilo Pala e io vorrei così aggiungere un ringraziamento a tutti gli amici che sono in linea che ci stanno ascoltando seguendo e che ci danno anche un po' di passione amore per sentirci sempre vivi perché questo è importante no Dani? e facciamo un ringraziamento a tutti gli amici appunto che abbiamo tanti poi abbiamo tanti telefoni tante pagine aperte per cercare di raggiungere più persone possibili così per non per il successo il successo dei numeri ma per cercare di anche avere qualche contributo perché abbiamo così come si vede su vari video varie proposte musicali da parte di tanti artisti tanti musicisti che hanno attivato appunto la donazione con la Pai la posta Pai la Pai la comunque noi abbiamo un link sui sui post che abbiamo condiviso c'è un link che raccoglie la donazione che qualcuno magari vuole fare anche un euro non è necessario noi fa piacere qualsiasi cosa anche niente anche niente però non è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.